Questa mattina conferenza stampa a Sant'Anna da parte del sindaco Lubrano e della sua giunta al completo. È stato fatto un bilancio dei primi sei mesi di governo, sono stati affrontati diversi argomenti e toccati i settori principali dell'amministrazione. In questi sei mesi abbiamo seminato tanto, adesso dal prossimo anno inizieremo a raccogliere i frutti. Così Stefano Lubrano, sindaco di Alghero, durante la conferenza stampa di fine anno. La giunta al completo ha partecipato all'incontro con i giornalisti, utile a fare un primo bilancio sull'operato come guida del comune di Alghero. Dopo otto mesi di commissariamento era normale che avessimo trovato delle difficoltà. Inoltre, spiega Lubrano, ci siamo insediati in piena stagione turistica, trovandoci subito a far fronte alle numerose problematiche esistenti, tra cui anche la scarsità di dirigenti a disposizione e poi l'eseguità di danari per i tagli dello Stato che hanno impedito all'amministrazione di attuare una riduzione dell'Imu, come annunciato in campagna elettorale. Questo è il primo impatto, ma poi, come è detto questa mattina, sono state avviate le prime linee per dare efficacia all'azione amministrativa, che, come è detto da Lubrano, hanno visto l'apparato confrontarsi con la situazione del bilancio, in particolare i residui attivi e passivi e poi il carico di 5 milioni di debiti fuori bilancio. Nonostante questo peso, è stato diminuito il costo per la mensa scolastica e l'anticipo delle borse di studio, novità per la biblioteca comunale che sarà spostata, come previsto dall'amministrazione Tedde, nell'ex monastero di Santa Chiara, mentre la struttura di Via Mazzini sarà occupata dal comando di Polizia Municipale. Per quanto riguarda le opere pubbliche, c'è un cambio di rotta. Stiamo riflettendo su cosa sia meglio, visto che diverse progettualità, attuate negli anni scorsi, oggi pesano troppo in costi di manutenzione alle casse comunali, dunque dovremo capire quali opere nuove attuare. I servizi sociali, invece, dovranno essere totalmente riformati e modernizzati per far fronte anche alle nuove povertà crescenti, mentre per la cultura è importante risolvere i problemi legati agli spazi e all'utilizzo, ad esempio, del teatro civico. La cultura si collega alla crescita economica e su questo fronte c'è da segnalare la definizione dell'accordo commerciale con il noto marchio di birra catalano Estreglia Dam, che verrà ad investire nella Riviera del Corallo, con l'attivazione anche di eventi di vario genere, su cui sta lavorando la direzione della sede della Generalitat ad Alghero. Durante l'incontro si è parlato anche di Marea Gialla. Con il miglioramento della depurazione, raggiungendo il protocollo numero 5, è stato notato che il fenomeno è notevolmente diminuito, ha detto Lubrano. E poi una stoccata, chi quest'estate utilizzò questo problema per andare in onda su Canale 5, facendo un incredibile danno di immagine ad Alghero. Adesso il lavoro si concentrerà sul nuovo appalto di igiene urbana, che scade a fine estate, e il piano urbanistico comunale, mentre su Marea Pia è stata confermata la volontà di realizzare un parco urbano con qualche insediamento ricettivo che non superi i 600 posti letto. E sempre questa mattina abbiamo sentito anche l'assessore all'ambiente Chiara Rosnati, a cui abbiamo chiesto riguardo le problematiche del servizio di igiene urbana. L'anno prossimo scadrà l'appalto di gestione da parte della Imeri. Queste problematiche potranno avere degli effetti negativi ulteriori sulla città di Alghero? Questo è difficile da dirsi. Adesso vediamo, come ho saputo ieri, il vertice della Zienda verrà a trovarci a gennaio per spiegarci le strategie per arrivare a fine appalto in una maniera più decorosa. In ogni caso siamo in contatto con le sigle sindacali, se la situazione dovesse precipitare lavoreremo in maniera tale da verificare altri tipi di soluzioni. Mentre per il nuovo appalto si sta lavorando? Si sta lavorando da mesi, stiamo studiando l'attuale appalto e le criticità in maniera tale da costruire un appalto che permetta il consolidamento dell'ottimo risultato ottenuto considerando il tipo di raccolta nell'ambito della raccolta differenziata per cui qualche volta riusciamo a sferare il 40%, cosa effettivamente difficile quando si ha un porta a porta non integrale. Quindi il lavoro che stiamo facendo è studiare le problematiche dei differenti quartieri dall'agro al centro storico ai compensianti per verificare migliori soluzioni nell'ambito della raccolta differenziata. Tra il scopo presto dovrebbe uscire una sorta di avviso pubblico che invita tecnici a fare delle proposte di supporto alla costruzione del capitolato per quanto riguarda aspetti come per esempio l'analisi economica dei differenti scenari che potrebbero comporre l'appalto. Il turismo rispetto al 2012 Alghero ha perso 60.000 presenze effettive è il dato più importante che fa riflettere riguardo la nota diffusa dal Consorzio dei Servizi Turistici Riviera del Corallo. Il presidente Stefano Visconti fotografa la situazione generale. Le migliori performance in termini occupazionali sono state assicurate da quegli hotel sul mare in area extraurbana che meglio identificano nell'immaginario del turista il principale motivo per trascorrere ad Alghero il proprio tempo libero. Adesso le imprese raggruppate nel Consorzio sono chiamate alla prova di Capodanno. Per ora i pochi hotel aperti per il periodo natalizio e di fine anno registrano prenotazioni caratterizzate da un andamento pigro fiaccato da crisi, incertezze e tasse delle quali una proprio sotto l'albero di Natale, l'Imu. Troppo ottimistico quindi ipotizzare il pienone. Non aiutano finora prezzi competitivi per camere e servizi offerti addirittura inferiori al listino applicato nel 2011. Non aiuta il programma del Cadean, figlio della Spender Review anche se con spunti interessanti. Per il 2013 ancora tantissima incertezza. Ciò riferisce Visconti a causa delle ataviche problematiche legate ai trasporti da quelli aerei a quelli in marittimi. Si chiede dunque uno sforzo maggiore affinché i collegamenti vengano migliorati. E domani, domenica 30 dicembre, dalle 8 alle 21, anche ad Alghero il Partito Democratico promuove le primarie per la selezione delle candidature al Parlamento nazionale per le elezioni politiche del 2013. Attraverso lo strumento delle primarie, il PD intende selezionare i propri candidati in coerenza con i suoi principi statutari e con la vocazione di partito di governo aperto alla società in grado di promuovere nelle composizioni delle liste e in particolare nelle posizioni elegibili competenze di donne e di uomini. Dove si vota i seggi sono gli stessi utilizzati per le primarie del 25 novembre. fanno sapere del ballottaggio del 2 dicembre. Sede del Partito Democratico in via Mazzini 99, sede dell'Associazione in Isola in via Brigata Sassari 58, sede dell'Associazione Impegno Rurale in piazza Olbia Santa Maria La Palma. I seggi resteranno aperti per tutta la giornata di domani, dalle 8 alle 21, come detto. E ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità. A tra poco.